La Fondazione Agnelli ha curato il rapporto sull'edilizia scolastica pubblicato nel 2020. Qual è lo stato di salute degli edifici scolastici in Italia e a Torino? La rete delle scuole italiane costituisce una delle principali infrastrutture a livello nazionale. I circa 44.000 plessi che costituiscono questa rete hanno un'età media di circa 53 anni. Il 60% di questi edifici è stato costruito prima del 76. A livello locale, per esempio per la città di Torino, questa percentuale sale al 62%, abbastanza in linea con il livello nazionale. Ci sono altre città del nord che sono messe anche peggio, per esempio Milano ha una percentuale del 68 e a Genova addirittura l'81% degli edifici è stato costruito prima del 76. Uno su cinque non era stato concepito per un uso scolastico, quindi tutto questo quadro, come potete facilmente immaginare, delinea uno stato di obsolescenza diffusa su tutti i livelli, quindi quello della sostenibilità, quello della sicurezza e anche quello purtroppo dell'innovazione didattica. Quali sono i nodi più urgenti da risolvere? L'insegnamento più chiaro che come Fondazione Agnelli abbiamo tratto dalla nostra duplice esperienza, quindi sia sul piano della ricerca con il rapporto di la terza del 20 che con l'esperienza di Torino fa scuola, è questo, cioè la necessità di intervenire sugli edifici scolastici a qualsiasi livello, quindi dal più piccolo degli interventi alla più importante riqualificazione, sempre tenendo conto contemporaneamente dei tre livelli, quindi intervenire sull'involucro, quindi sul tema della sicurezza e della prestazione energetica, sempre però tenendo conto del contenuto del fare scuola, quindi pensando sempre che questi edifici devono essere il supporto a tutte le nuove pratiche didattiche. Contemporaneamente un'altra grande attenzione è da porre al tema dei processi, e questo su due livelli, quindi innanzitutto dal punto di vista della voce della scuola, quindi è sempre importante considerare la voce della scuola come il punto di partenza di qualsiasi intervento e invece per quello che riguarda la qualità dell'architettura, essere molto attenti ai processi di selezione dei progetti e dei progettisti e per quello che ci riguarda, diciamo, prediligere il concorso di progettazione come strumento di selezione. Quali sono le leve le opportunità, in particolare alla luce dell'emergenza sanitaria e degli strumenti finanziari a disposizione? Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, così come disegnato dallo scorso governo, destina un investimento di 7 miliardi di euro al tema dell'edilizia scolastica più 4 miliardi destinati insieme al tema dell'innovazione didattica e all'investimento sulle scuole dell'infanzia. Ovviamente si tratta, diciamo, di una grandissima opportunità soprattutto per ragionare a una scala di visione complessiva e con un intervento che riesca appunto a fare la differenza veramente a livello del piano e della visione. Tutto questo ovviamente sarà possibile se questo investimento verrà pensato realmente in questi termini e soprattutto superando l'impostazione attuale che prevede appunto una suddivisione molto netta fra gli interventi sugli involucri e gli interventi appunto sul contenuto. A nostro avviso sarà anche molto importante ragionare sulla conoscenza cioè partire da una conoscenza approfondita dei dati e quindi una conoscenza delle anagrafi dell'edilizia sia quella nazionale che quelle regionali per poter stabilire un criterio ragionato di priorità degli interventi. Grazie a tutti!